Migranti e rifugiati ci interpellano, un messaggio che il Santo Padre ci pone ogni giorno di fronte e di questo lei ha parlato questa sera nell'Assemblea dell'Azione Cattolica. Il Magistero di Papa Francesco interpella non solo la comunità cristiana, ma invita ad allungare lo sguardo perché solo attraverso una consapevolezza di un fenomeno complesso che ha radici molto lontane si può trasformare la memoria in progetto. E da Papa Francesco viene anche l'invito a non declassare la misericordia ad un atteggiamento solo assistenzialistico che di per sé è già molto, moltissimo. Accoglienza e solidarietà sono anche un problema politico importante. Quest'Europa che basa su questi principi le proprie radici e invece pensa agli steccati alle barriere. Gli storici, in maniera particolare Jacques Le Goff, dice che l'Europa è nata meticcia. Nelle sue origini, proprio sulle soglie della storia, ha sperimentato migrazioni profonde da nord verso sud. Ora ci troviamo a registrare il fenomeno inverso. Una Europa che si illude di gestire il multiculturalismo con la neutralità burocratica, se manca di progetti, se manca di coraggio, alla fine si arrende al rinascere, a volte violento, dei nazionalismi. Se l'Europa ha una ragione di esistere, la trova solo se riesce ad essere un'alternativa credibile ai nazionalismi. La non conoscenza dell'altro provoca sempre timori, paure. Purtroppo l'Europa oggi vive su questi timori e c'è chi fa politica su questi timori. Cavalcare la paura è il modo peggiore da parte della politica di solleticare gli egoismi e di mettere la sordina alle riflessioni. Quando in una società viene meno un amore comune, cresce una paura comune. E questo è una sconfitta per la politica e anche per la nostra umanità.